buongiorno a tutti da andrea cartotto anche oggi non un videocorso consueto ma in realtà una riflessione sempre dal trentino ci troviamo accanto ad una statua veramente particolare iconica di questa regione che è il cristo pensante una statua che pesa diversi quintali realizzata dallo scultore Lauton in questo marmo bianco di predazzo che si chiama Pedrazite meravigliosa perché riporta alla base una frase che è di madre Teresa di Calcutta veramente significativa trova il tempo di pensare, trova il tempo di pregare, trova il tempo di sorridere la corona di spine che vediamo sulla fronte del cristo pensante va un pochino a descrivere e a raccontare quelle che sono state le vicende della grande guerra la prima guerra mondiale di cui in questa zona ci sono numerose testimonianze in forma di trincee non solo insomma una zona vi mostro anche che abbiamo il grande crocifisso che la contraddistingue una zona che si affaccia sulle Dolomiti che regala panorami come quello che ora state osservando